In aumento del 20% le pre-iscrizioni all'Università di Trento per l'anno accademico 2011-2012 per le immatricolazioni c'è tempo fino a 16 settembre. E' presto dunque per fare un bilancio definitivo, ma abbiamo cercato comunque di capire quali sono gli orientamenti degli studenti. Vediamo. Sette le facoltà universitarie a Trento con 22 corsi di studio triennali e due di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale. Tra i 24 corsi attivati, 9 sono ad accesso programmato e prevedono l'ingresso con test selettivo. Si svolgeranno tutti fra il 24 agosto e il 9 di settembre. È importante controllare la data esatta del test per il corso di studio prescelto. Abbiamo un numero di pre-iscrizioni che possiamo dare? Il numero totale di prescritti attualmente è attorno ai 1800 studenti. Ma che cosa cercano gli studenti a Trento? Una battuta avrebbe da dire che lo studente cerca qualità. Dopodiché qualità può essere declinata in tanti contesti. Qualità dei servizi, del percorso formativo, la qualità che traspare dalle classifiche census e quant'altro. Diciamo sicuramente che a livello complessivo, come offerta formativa e come servizi a contorno, e quindi anche vanno ricordati assolutamente i servizi erogati dall'ente provinciale per il dito allo studio, probabilmente lo studente viene a Trento anche perché sente parlare positivamente dell'Ateneo nel suo complesso. Le tre mosse fondamentali per diventare uno studente dell'Ateneo trentino sono il calcolo della condizione economica in base all'indicatore ICEF, la procedura online per abbreviare la pratica e infine la consegna dei moduli allo sportello unico.